Sono Rosanna Capitani e come socia Toscana Inn ho avuto il piacere di poter organizzare questa serata presso la Fondazione Campus, seguendo uno stagista della Fondazione Campus stessa, al fine di fare un focus su quello che sono, secondo me, le nuove tendenze del turismo sia in Toscana ma anche con un occhio verso il turismo outgoing, facendo un punto della situazione con gli operatori, attraverso il dialogo con gli operatori, quindi portando le loro esperienze a conoscenza di tutti i nostri soci, interlocutori e ospiti della serata. Abbiamo quindi avuto l'idea di fare intervenire un'agenzia di viaggi, un albergo, un albergatore, una guida turistica, un'azienda che avesse portato dell'innovazione anche per questo settore e quindi è un sistema di recommendations evoluto e anche chiaramente poi fare intervenire i referenti della Fondazione Campus e dell'istituto universitario che viene qui ospitato per parlare di quelle che sono le prospettive di formazione in questo settore. Riteniamo come Toscana Inn che non sia mai abbastanza lo spazio che viene dedicato alla discussione sulle tematiche che riguardano il turismo, le proprie evoluzioni, soprattutto dal punto di vista del marketing e della comunicazione e anche di quelle che sono le modalità di approccio al turista stesso. Quindi abbiamo affrontato e ci piace affrontare sia a due livelli, online e offline parlando in termini di internet ma anche operativo e teorico quello che è tutto l'insieme di tematiche, problematiche e prospettive che riguardano questo settore.